Da dove vieni? Sono in Giappone. Come mangi qui? Per il studio. E come fai? Che cosa stai facendo adesso? Stiamo lavorando le cicche, perché Napoli non merita di essere sporca. Mi piace Napoli, allora quando vedo giù ci sono le spazzature. Non mi piace questo, allora ho iniziato questa cosa. Grazie per quello che fai Bernardo. Grazie a lei. Ciao, buon lavoro, buona fortuna. Ciao.